Quindi, quando voi cominciate a cercare lavoro, la prima cosa che fate ovviamente è preparare il vostro curriculum meraviglioso, bellissimo, super professionale, super tecnico, anche la lettera di presentazione, non ne parliamo del profilo LinkedIn, c'è tutto, c'è la foto professionale, tutta la lista delle vostre attività, in dettaglio tutte le vostre competenze tecniche, mettete tutti i titoli, tutte le certifiche, tutto, mettete tutto, e poi che cosa fate? Cominciate a dare le vostre candidature, le vostre proposte, risposta agli annunci, oppure direttamente l'azienda, oppure contattate direttamente il recruiter, oppure le fate passare attraverso degli amici, lo stesso attraverso LinkedIn, però che passa il tempo, passa il tempo, passa il tempo, non succede niente. A voi è successo mai questa cosa, oppure già mandate la vostra candidatura, c'è un annuncio perfetto, lo mandate e vi rispondono subito. Quanti di voi? Quanti? Quanti? Nessuno, nessuno. Oppure, non so, avete messo il profilo LinkedIn e avete trovato immediatamente lavoro, quanti? Quanti? Uno? Ecco, uno, uno, perfetto, la sala è piena, uno. Allora, che cosa succede? Ma perché succede questa cosa? Ma è assurdo! Allora, io vi faccio vedere un caso, è successo a me, è successo a alcuni miei studenti, gli chiedo di fare questa cosa. Quindi, magari c'è un annuncio lavoro perfetto, fantastico, bellissimo per voi e voi vi candidate. Risposta? Nessuna. Ma com'è possibile? Cioè, l'annuncio sembra scritto per me, ma cosa è successo? Non lo so, ma che cosa? Ecco, vi invito a fare una cosa, un'operazione. Chiamate. Chiamate la persona a cui avete inviato la vostra proposta. magari, non soltanto per la risposta di un annuncio di lavoro, ma una risposta per una proposta che voi avete mandato in forma spontanea. Chiamatela, non per pretendere una risposta, semplicemente per sapere se mancano delle informazioni, se posso essere d'aiuto, posso completare, magari non era chiaro. Sapete che cosa succede spesso? Che dall'altra parte, la persona non sa neanche di cosa stai parlando. Sì, l'ha visto il vostro curriculum, ma non sa perché va scartato. Sì, no, in effetti guardandola, non lo so, ma poi è andata avanti, ma perché non lo avete inserito? Non lo so, non lo so. Ecco, questa cosa succede tantissime volte, però siccome voi non l'avete mai chiamato, magari non vi siete mai accorti di questa situazione. Cioè, dall'altra parte qualcuno vi ha valutato, non ha capito perché va scartato. Non lo sa, non lo sa. Ecco, c'è un motivo. Questo motivo non ve lo spiegherò io, bensì una persona sicuramente molto più credibile e capace di me, Tullio De Mauro, è stato un linguista, un accademico, è stato addirittura ministro della pubblica istruzione. Adesso, in pochi secondi, vi spiegherà il motivo per cui il vostro selezionatore non ha capito niente della vostra proposta. La parte di popolazione italiana che è al di sotto di quelli che vengono ritenuti i livelli minimi di comprensione di un testo scritto sono un po' più del 70% della popolazione. 70%! Mi invito poi a guardare video, poi trovate tranquillamente su Google qualsiasi informazione. Sta parlando che circa il 70% della popolazione italiana è incapace di comprendere da un testo scritto il vero e proprio significato. Quindi magari da un curriculum bellissimo, professionale, super dettagliato, non è riuscito a capire il vostro talento, le vostre caratteristiche, non riesce a capire se effettivamente gli potete essere utili oppure no. E vi scarta. Stiamo parlando del 70% potenzialmente di tutti i vostri selezionatori. Se non me guardate così, è così. Quindi magari hanno guardato il vostro curriculum, il profilo LinkedIn, non l'hanno capito, non lo sanno, non mi interessa, ma perché? Non lo so, non lo so, non so perché. Anche perché queste persone non lo sanno di non sapere, di non avere la capacità di comprendere tra quelle righe che voi avete scritto, il talento, la capacità, la professionalità non ce la fa. Però com'è che si risolve questo problema? Semplificando. Io dico sempre ai miei studenti, fai finta che il tuo interlocutore, cioè la persona a cui tu stai mandando la tua proposta di collaborazione sia un bambino di 10 anni che sta giocando con la Playstation. Magari è una persona intelligentissima, magari quel selezionatore lo vedi su LinkedIn, c'ha quella foto messo di lato con le braccia in concerto, lo sguardo fiero, intelligente. No, non capisce niente! Magari fa proprio parte di quel 70%, è pazzesco! E queste persone non lo sanno, sono soggette a quello che comunemente viene chiamato un alfabetismo funzionale, di cui l'Italia ha la percentuale più alta al mondo. Stiamo parlando che nella nostra popolazione, indifferentemente dall'età, dal livello culturale, dalla funzione aziendale, magari sono manager, sono dirigenti, sono selezionatori, sono soggetti al fatto che non riescono a comprendere un testo scritto. Sì, lo leggono, ma non riescono a andare avanti, non riescono a fare la proiezione fra quello che tu hai scritto e quello che potrebbe essere effettivamente il tuo vero utilizzo. Quindi ti scartano, non sanno perché, non lo sanno, non sanno lo sanno! Quindi, il messaggio che vi do è, primo, semplificate, togliete qualsiasi termine tecnico, gioco di parole, non vi aspettate che la persona perché avete segnato che avete lavorato in quell'azienda importante, voi siete un professionista, non ci arrivano, non ce la fanno, non è nei loro cordi e vi scartano. Quindi dovete semplificare, eliminare qualsiasi possibile difficoltà, perché il problema è che, molto probabilmente, questa persona non vi capisce se eravate perfetti per quel ruolo, ma vi ha scartato. Il motivo per cui ho messo la PlayStation, adesso poi ve lo dico nel secondo motivo. Adesso ci arriviamo subito. Adesso ci arriviamo subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.